Siamo in presenza di Rosa e Michele Pianese, i genitori di Antonio a cui è dedicato questo premio. Anche quest'anno vengono premiate delle personalità importanti. Una fra tutte è una persona che viene dalla vostra terra, ecco dalla terra dei fuochi, Don Maurizio Patriciello. Come giudicate questa assegnazione? Questa è una cosa bellissima che avete premiato questo Don Patriciello, una persona, io lo valuto come Giovanni Falcone Borsellino. Il Signore illumina lui con tutte queste persone a dare vita a questi bambini e alla terra dei fuochi. Tanti bambini che ospitiamo per la vacanza del sorriso vengono proprio dal Pausillipon di Napoli e in modo particolare dalla terra dei fuochi. Quindi è sicuramente ancora più vivo il ricordo di Antonio. Dopo tanti anni ci ha fatto rivivere il nostro figlio come fosse ancora vivente. Diversi di 15 anni fa, quando ancora di più, è nata questa cosa, quindi vive ancora, ecco. Padre Maurizio sappiamo che è in prima linea nella lotta in favore degli oppressi e degli ultimi. Papa Francesco dice che le periferie della città non devono essere la fine della città, ma l'inizio. Lei è all'inizio di una città? Grazie a te è arrivato Papa Francesco per ricordarci questa verità, perché per troppo tempo le abbiamo considerate la fine della città. Da tutti i punti di vista il problema anche delle periferie, perché vengono ammassate delle tante povertà tutte quante insieme. Per esempio il quartiere dove io sono parroco, Parco Verde in Caivano, è nato dopo il terremoto dell'80 e hanno fatto degli errori maturnali, guardo, proprio da tutti i punti di vista, perché hanno ammassato tutti i poveri di Napoli dopo il terremoto e quindi hanno prodotto un sacco di problemi. Lei infatti ha usato l'espressione che sono quartieri nati con il peccato originale. Sì, sono quartieri nati col peccato originale per dire che proprio il problema sta alla base, per cui anche gli interventi che poi arrivano successivamente lasciano sempre il tempo che trovano, perché questo lo sanno anche i bambini e se tu metti insieme tante povertà da un punto di vista psicologico, economico, insomma sociologico, è poi normale che non c'è quel passaggio dei valori dall'uno all'altro, quell'osmosi che si crea. Se tu metti insieme 50 bambini di diverse tradizioni sociali, economiche, insomma qualcosa dell'uno passa all'altro, insomma anche chi magari già sta meglio economicamente può sempre imparare qualcosa dall'altro, invece quando sono tutti quanti dello stesso tenore, diciamo così, allora in genere ci si appiattisce, ecco questo è stato un errore che è stato fatto e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze, perché poi è dura uscire fuori da questo modo di fare.